Ciao, buonasera, buonasera. Emozioni di questo momento? E' enorme emozione, ci credevo tantissimo, ho lavorato tantissimo per questo, ho avuto tantissime persone che mi hanno dato una mano, molte persone, alcune persone mi hanno dato qualcosa di loro per aiutarmi in questa... C'è tanta cabbala? Ci sono episodi che mi hanno accompagnato. Che scaramanzia c'era stata? La bombizione di uscire. Ciao, mi figliola, grande Marghi! Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Quanto ti ha dato? Scusate. Quanto ti guardano le volte? Vieni qua, vieni qua, vieni qua!